Pronti a cercare nuove emozioni insieme a Chia Picanto? Nuova Chia Picanto, divertiti a scoprire! L'unica city car con 7 anni di garanzia, tua da 8.500 euro. Vieni a provarla in concessionaria! Benvenuti in casa Chia e soprattutto benvenuti in Chia Torino 1. Io mi trovo a Collegno, in Corso Francia 138, in splendida compagnia, quella di Roberto Loconti. Ciao! Ciao Sonia, bentornati a tutti voi! E in casa Chia ci sono tante novità, anche se so che la puntata sarà dedicata all'usato. Hai detto bene, qui rappresentiamo il marchio Chia, un marchio di elevatissima qualità, 7 anni di garanzia. Una gamma ampissima, dalla piccola Picanto fino al grandissimo fuoristrada Sorento. Venite a scoprire tutte le novità, soprattutto la nuova Chia Stonic. Ma venite anche ad acquistare l'usato e in questa sede ce n'è davvero parecchio, un po' per tutti i gusti, per tutte le tasche, dalla piccola insomma al crossover. C'è veramente una grande scelta e soprattutto una grande convenienza. Quindi carte e penne alle mani e occhi al prezzo e alla qualità. Partiamo subito con un comodissimo Fiat Fremont. Sette posti, molto adatto alla famiglia, 16.500 euro, 2.000 turbodiesel. Spostiamoci sull'ibrido per eccellenza in casa Toyota, Yaris, ne abbiamo tantissime, tantissime colorazioni. Venite a scoprire i loro prezzi. Un'altra super economica, Lancia Ypsilon Eco GPL, immatricolata nell'anno 2015, 10.900 euro il suo prezzo. Un'altra splendida ibrida, Toyota Auris, disponibili sia a Berlina che Station Wagon, a partire da 14.500 euro. Super, super accessoriate. Un'altra comoda per la famiglia, Opel Astra, 14.500 euro il suo prezzo, vettura immatricolata nell'anno 2015. Venite a scoprire i tantissimi accessori presenti su quest'auto. Introvabile, Toyota Urban Cruiser, quattro ruote motrici, quindi adatta alla stagione in corso, 9.900 euro il suo prezzo. Venite a provarla su strada. Non possono chiaramente mancare le occasioni a chilometro zero e le vetture aziendali. Ne abbiamo tantissime su tutti i marchi rappresentati anche sul nuovo, fino a 7.000 euro di sconto su tutte le nostre chilometri zero e rateizzazioni su misura molto economiche, molto convenienti. Non possono mancare i crossover di casa Nissan per eccellenza, quindi in questo caso Nissan X-Trail e Nissan Qashqai. Tantissime configurazioni, tantissime personalizzazioni a vostra disposizione. Venite a scoprirle qui in Corso Francia 138 a Collegno. Continuiamo con questa splendida Hyundai i40, comodissima per la famiglia. Venite a scoprire tutti i suoi accessori, un prezzo interessantissimo. Un'altra vettura aziendale, Toyota Verso, molto comoda, solamente 7.200 chilometri, 20.900 euro il suo prezzo. E chiudiamo questa breve carrellata con questa sfiziosissima 500L in allestimento trekking, 1.6 multijet, 15.500 euro il suo prezzo, pochissimi chilometri. E concludiamo in bellezza accanto alla novità Kia Stonic, ricordando comunque che c'è molto di più qui in Corso Francia. Certo che sì, questo era solamente un piccolo accenno. Abbiamo tantissime vetture, oltre mille vetture nella nostra grande azienda, tutte certificate e garantite per voi. Bene, ma voi non andate via perché l'appuntamento prosegue la scoperta di un altro marchio del gruppo AD. Infatti tu adesso so che mi accompagnerai in via Gallupi. State con noi. Nuo Mitsubishi Outlander Ed eccoci trasferiti in Mitsubishi Torino 1, in Corso Unione Sovietica 91, angolo via Gallupi. Siamo a Torino, sempre in compagnia di Roberto Loconti, a parlare di festeggiamenti, perché si festeggia una ricorrenza in casa Mitsubishi. Assolutamente sì, i cento anni di Mitsubishi. Questo storico marchio dalla qualità elevatissima, cento anni di storia, tantissime offerte riservate per voi, storici clienti Mitsubishi, per tutti i nuovi clienti che si vogliono approcciare a questo marchio dalle caratteristiche eccezionali. Caratteristiche eccezionali, avvincenti, con un ottimo rapporto anche prezzo qualità. Cominciamo a vedere la gamma e a partire da Space Star. Che cosa ci riserva la promozione? Space Star, ancora più conveniente, un incentivo a rottamazione pazzesco, fino a 4.000 euro di vantaggi se riportate il vostro usato da rottamare. Soprattutto un eco-finanziamento pazzesco, anticipo zero, con rate da 169 euro al mese. So che c'è comunque una forte agevolazione per quanto riguarda la gamma dei SUV. Hai detto benissimo, fino a 6.000 euro di vantaggi, tutta la gamma SUV a partire da 15.900 euro, il crossover per eccellenza quindi ASX, il super personalizzabile Outlander, 5-7 posti, 2 o 4 WD, soprattutto il librido plug-in. E poi concludiamo con il mitico fuoristrada Pajero, quindi con speciale edizione One 100, quindi per festeggiare questi cent'anni di storia. Ma la ricorrenza del centenario maggiore ancora più le agevolazioni che hai appena elencato? Assolutamente sì, c'è un'offerta in corso anche su tutti gli accessori, scontati del 50% su tutta la gamma. Non dimentichiamo il pick-up. Assolutamente, il pick-up per eccellenza quindi L200, vostro a 18.300 euro, quindi questo prezzo esclusivo, sempre per festeggiare questa importante ricorrenza, soprattutto 299 euro al mese e ricordiamoci il super ammortamento del 140%. Bene, super promozioni, super agevolazioni, grandi opportunità d'acquisto ma ricordiamo soprattutto 5 anni di garanzia. Hai detto bene, 5 anni di garanzia, 5 anni di assistenza stradale in tutta Europa, quindi ha maggior riconferma di questa elevatissima qualità costruttiva di queste vetture. Bene, tutto questo e molto di più, in corso di unione sovietica 91 angolo via Gallupi, da Mitsubishi Torino 1, un marchio importante, una gamma apprezzatissima, molto interessante e soprattutto intelligente per quanto riguarda queste promozioni legate al centenario. Io ti ringrazio Roberto, gentile come sempre, ringrazio voi per l'ascolto e come sempre linea alla regia.